Il 2017 inizia con una tragedia della strada in Casentino. Lunedì mattina a Porrena Nadia Faginali, 39enne di Stia, è morta in un fuoristrada con la sua auto, probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato. L'incidente è avvenuto alle 7 e 10 circa, mentre la donna stava andando a lavoro all'Eurospin di Bibbiena. Sul posto i carabinieri di Bibbiena che hanno effettuato i rilievi, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna stava viaggiando a bordo della sua Mitsubishi Colt, quando a causa probabilmente di una lastra di ghiaccio sul fondo stradale ha sbandato, finendo la sua corso contro il muretto di una recinzione di un'abitazione. Uno schianto violento che per la donna purtroppo è risultato fatale. Ad estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto sono stati i vigili del fuoco, mentre i sanitari del 118 hanno solamente potuto constatare la morte della 39enne.